Ma che abbiamo fatto? Stasera è una serata meravigliosa, dedicata alla mia città che è Salerno, alla Campania che è la mia regione, dedicata ai miei amici, in particolare a Daniele Caramagni, che è un ragazzo che io ricordo sempre sveglio, attivo, pieno di iniziative. Addio, cari salernitanni, me lo voglio rubare, me lo voglio tenere qui a Roma, perché stasera ha organizzato e ha portato tutti i nostri prodotti tipici, facendo di assaggiare a persone veramente competenti, quindi la sua grande capacità di coinvolgimento, di conoscere tutto quello che sono i prodotti nostri tipici, ha buttato una mozzarella che era un sogno, il vino, non ne parlamo proprio. E poi il suo grande modo di parlare, di esprimersi, di raccontare. Sì, ma dobbiamo parlare di te, non di me. No, io voglio parlare di te. No, no, no. Fammi le domande. Allora, domanda, come è nata questa serata? Soprattutto abbiamo ospitato Andrea Rismone, col suo libro, Sulla cipollera amata di Montoro. Certo, eccolo qua, lo faccio vedere. Abbiamo avuto la fortuna che è stata presentata questa serata dal grande direttore di Rai 1, ecco, direttore di Rai 1, Mauro Mazza. Abbiamo avuto tanti ospiti, Giancarlo Magalli, Giuseppina Lessi, Adriano De Maio, tutti i salernitani che hanno Vittoriano Abbate, tanti politici, ma i nomi non mi ricordo perché sono un po' memoratina. Ed è stata una serata dedicata appunto alla cipolla di Montoro, ma è stato più che altro un ritrovarsi tra amici, tra salernitani e veri, persone che amano la cultura, che cucinano con il cuore sia i sentimenti che le pietanze, dico io. Io ormai mi definisco un po' come mi ha definito Alfonso Sarno, un atto salernitano doc, la cantascef. Come nasce questa cantascef? Per il grande amore della musica e della cucina. Io penso che c'è un filo conduttore. Come uno spartito per la musica è importante, rappresenta un'armonia, così una ricetta per la cucina rappresenta l'amore, il ricordo, quello che ti è successo nella vita. E il filo conduttore tra i due elementi sicuramente è l'olfatto, perché non appena, nel mio caso, io metto alla bocca un cucchiaio, qualcosa, una pietanza, specialmente se cucinata da Daniele Caramagna, mi ritornano subito in mente le cose più belle della mia vita, a volte anche le più belle, e le leggo istintivamente ad una canzone. Io si mangia una parmigiano, ma cucino, ma guardo, non posso fare altro che immaginare e cantare, tu sei una cosa grande per me, e così via amici miei, e così via.